calignaia 24 7 2019 splendida giornata di mare acqua pulita fresca con qualche medusa di vele rosse a cipolla tanto sole e un caldo che si spiombava sta bene nell'acqua breve considerazioni su cosa serve per andare a rimuovere le meduse dal mare con sicurezza quello che vi serve è una maschera un boccaglio e un retino la maschera è indispensabile perché vi permette di vedere con chiarezza sott'acqua e di proteggervi il volto da inattesi e pericolosi scontri con le meduse rosse a cipolla che fanno un male boia e se si inciampate vi ci rimane il trincio per una settimana sulla pelle poi il boccaglio vi permette di respirare sott'acqua senza stare a curarvi di fare la respirazione di mantenere sempre la concentrazione su eventuali target intorno a voi il retino ovviamente per rimuovere con sicurezza le meduse alla dotazione minima è caldamente consigliato aggiungere una muta shorty e dei guanti da sub i guanti da sub vi proteggeranno dal rischio di rimanere ustionati che a volte capita nonostante il retino sulle mani o sui bracci e quindi sono un dispositivo di sicurezza importante da disporre la muta da sub shorty vi permetterà di stare in acqua lungo anche tre ore di fila prima che si zuppi e che incomincia a diventare pesante che vi segui addosso nel collo oppure sotto le braccia e stando comodamente in acqua a rimuovere le meduse e rompi coglioni e quindi è caldamente consigliato un equipaggiamento aggiuntivo da aggiungere alla tradizionale maschere boccaglio e retino ciao